Più di 150 bambini a lezioni di sicurezza. In occasione della giornata mondiale della salute e sicurezza nei posti di lavoro, ANMIL ha organizzato diversi incontri nelle scuole primarie piacentine per sensibilizzare anche i più piccoli ai pericoli degli infortuni. Insegnare i bambini molto piccoli è indispensabile ed è una necessità fondamentale dal mio punto di vista. Nell'infanzia, nella prima età, nell'età scolastica, è il periodo in cui i bambini recepiscono e assorbono tutte le informazioni e le metabolizzano come stile di vita. Dal mio punto di vista, quindi, essere nella scuola oggi a parlare di invalidi del lavoro, di infortuni sul lavoro, di sicurezza, di prevenzione, eccetera, è importantissimo. Che cosa insegnare loro? Allora, noi gli insegniamo a individuare le diverse tipologie di cartelli attraverso un sistema molto semplice, quindi associare a una forma geometrica e a un colore un certo significato, per esempio il triangolo giallo significa pericolo. Quindi per quanto i bambini non individueranno tutti i cartelli di pericolo, questa è una regola per invece gestire le situazioni di pericolo.